10 storie di giovani che hanno deciso di raccontare quello che hanno fatto e di raccontarci come hanno cambiato la loro vita molto spesso e siamo partiti, abbiamo lanciato il bando il primo luglio il primo luglio i ragazzi potevano entrare nel sito e compilare il modulo e mandarci i loro video di 7 minuti nelle quali raccontavano la loro storia abbiamo ricevuto 40 storie di queste 40 ne sono state selezionate 10 dalla giuria infine 4, le 4 migliori storie riceveranno un budget a disposizione per organizzare un evento legato alla loro storia sul loro territorio di parte inizia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti